Il film ha un andamento naturale con un montaggio abbastanza veloce e funziona nella storia quali sono i tuoi punti di riferimento registici diciamo che più che punti di riferimento di registi o punti di riferimento di film che sono film d'atmosfera film intimi film alla mungiu alla faradi ecco ti ho citato anche i registi film dove insomma non c'è bisogno di spettacolarizzare un argomento ma riuscire comunque a interiorizzarlo e a raccontarlo con sentimenti ed emozioni. Il personaggio di Luigi il padre di Regina è tutt'altro che un personaggio marginale è un padre amorevole ma allo stesso tempo è capace di rubare e mentire per la figlia che di che queste caratteristiche così diverse siano frequentemente riscontrabili al giorno d'oggi? Eh beh sì sì diciamo che Luigi rappresenta un po' quella che è la mia generazione il film è nato per questo motivo perché ci siamo resi conto in sceneggiatura con Mariano Di Nardo che ha scritto con me il film che oggi c'è bisogno più che mai di prendersi le proprie responsabilità quindi crescere e le nuove generazioni hanno sempre più bisogno di una guida per cui da qui nasce il film da queste riflessioni nasce il film e Luigi rappresenta proprio questo rappresenta un padre amorevole un padre amico ma che proprio per questo non riesce ad essere autoritario per cui deve fare un percorso durante il film così come poi lo fa Regina. La musica è uno dei temi importanti del film c'è anche un piccolo cameo di Bruno Sass cosa è cambiato nel panorama musicale italiano rispetto ai cantatori del tempo? Beh visto che mi stai citando Bruno Risas il mio Bruno Risas perché è calabrese come me diciamo che secondo il mio modestissimo parere il cantautorato italiano è vivo è forte e certo è cambiato perché è cambiata un po' la comunicazione per cui è normale che il modo di approcciarsi sentimentalmente è diverso però secondo me è tanto influenzato per esempio Brunori ha qualcosa che richiama Dalla, qualcosa che richiama De Gregori che è il cantautorato classico per cui penso che sia un'evoluzione, un genere moderno ma comunque influenzato dal passato